L'istituzione di Casali del Manco accelera i processi di fusione nel Cosentini. In ottobre in programma il referendum per la città unica Rossano Corigliano e muove i primi passi anche l'area urbana Cosenza Rende. Il docente dell'Unical Francesco Aiella monisce necessario lo studio di fattibilità redatto da esterni. In queste ore gli ex amministratori dei Casali del Manco hanno riconsegnato le fasce, le chiavi dei comuni, decadute le municipalità di Casole Bruzio, Trenta, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo. Ex sindaci e assessori affiancheranno il commissario nella fase di transizione fino alle elezioni del giugno 2018 in cui sarà eletto il primo cittadino di un territorio che conta circa 11.000 abitanti. Il Casopresila fa scuola e trova l'approvazione del mondo accademico. Casali del Manco è un esempio secondo me esemplare di come la società civile, molta parte della società civile abbia avviato il processo, lo abbia seguito, lo abbia consolidato e anche forzato nella fase conclusiva. Quindi un esempio secondo me da tener conto in molte altre municipalità che sono in fermento in Calabria per aggregarsi. Casali del Manco ha di fatto accelerato l'iter delle fusioni in Embrione. in ottobre il referendum per la città unica Corigliano-Rossano. Certamente anche Rossano e Corigliano è un buon esempio di integrazione reale già esistente. Bisogna però imparare anche qualche errore fatto a Casali del Manco. Mi riferisco per esempio alla necessità di capire da un lato quelli che sono i vantaggi e i svantaggi della fusione, nello caso specifico di Rossano-Corigliano, attraverso studi di fattibilità che siano indipendenti, nel senso che debbano essere fatti non dai comuni interessati ma da soggetti esterni. E ci sono i primi passi ufficiali per Cosenza Rende. Cosenza Rende è un caso molto interessante perché l'aggregazione di queste due municipalità che sono mediamente più grandi rappresenterebbe un motivo secondo me di interesse anche per la capacità di far leva su una scala molto più ampia, anche in termini di capacità di intercettare finanziamenti che sono orientati e dedicati ai comuni di grande dimensione. In una geografia della provincia Abruzzia che cambia, la spinta arriva soprattutto dalle leggi che favoriscono le fusioni dei comuni. Ci si interroga sui vantaggi, sulla convenienza delle aggregazioni municipali. Garantisce da un lato una maggiore organizzazione dei servizi e quindi migliore offerta, migliore efficienza nell'offerta dei servizi essenziali che i cittadini si aspettano dai piccoli e dai grandi comuni. Un'opportunità e una sfida quella di tutelare le identità, andare incontro al futuro non cancellando la storia dei luoghi.